Saluto e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, il generale Pasquale Angelo Santo, comandante del ROS, l'aggruppamento operativo speciale dei carabinieri. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ne abbiamo parlato nella prima parte e l'avete sentito anche dai titoli. C'è stata questa importante operazione dei carabinieri del ROS e del comando provinciale di Trapani contro presunti favoreggiatori di quello che è il super latitante della mafia, Matteo Messina Denaro. Un'operazione complessa che ha visto la partecipazione anche di specialisti in elicottero per arrivare a, abbiamo letto, 70 indagati generale e 35 arresti. Se ci conferma questi numeri e se ci racconta com'è stata condotta questa complessa operazione. Sì, l'intervento di questa mattina ha riguardato gli assetti organizzativi e le dinamiche delle famiglie mafiose di Campopero di Mazzara, di Mazzara del Vallo e di Marsala. Siamo nella provincia di Trapani e le famiglie mafiose in cui è articolata Cosa Nostra sono inquadrate nei mandamenti mafiosi e tra questi mandamenti che oggi sono stati colpiti dai provvedimenti ci sono anche associati a quello di Castelvetrano, che è il mandamento principale che storicamente è stato sempre capeggiato da appartenente alla famiglia di Messina Denaro. L'intervento ha riguardato le posizioni di 35 indagati che sono stati tratti in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere e 12 agli arresti domiciliari. Oltre a questi abbiamo anche perquisito oltre 30 indagati nel medesimo procedimento. Quindi l'operazione è articolata e complessa ma dimostra ancora una volta come le ricerche del latitante Matteo Messina Denaro sono caratterizzate da un'azione che noi definiamo continua e progressiva perché ha portato nel tempo, faccio riferimento per esempio agli ultimi 11 o 12 anni, ha portato nel tempo all'esecuzione di oltre 140 misure cautelari personali, al sequestro e alla confisca di beni per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro. Questo ha consegnito di indebolire la struttura militare e la rete di protezione dei latitanti e di impoverire l'intera organizzazione. Ecco, generale Pasquale Angelo Santo, comandante del Ross, lo ricordo, queste persone che avete arrestato, 35 arresti, che figure sono? Cosa vi dicono sulla latitanza di Matteo Messina Denaro? Quanto pensate di poterci essere vicini? Le indagini concluse oggi con l'esecuzione delle misure, a pari di quelle che abbiamo chiuso anche abbastanza recentemente, per esempio nell'anno 2018 e ancora prima, sono state svolte nei confronti di esponenti di primo piano dei mandamenti delle famiglie mafiose di Cosa Nostra Trapanese e queste investigazioni hanno confermato che la provincia mafiosa Trapanese è tuttora saldamente nelle mani dell'attitante Matteo Messina Denaro. E a questa figura è riconosciuta la leadership dagli stessi associati, associati che sono riconducibili direttamente all'attitante per le interlocuzioni che hanno mantenuto in qualche caso direttamente, in qualche altro caso in maniera mediata. Grazie